Ci troviamo davanti a una squadra molto esperta, con giocatori molto esperti, che secondo me stanno facendo un ottimo campionato, ma come tutte le partite che affrontiamo penso che noi sempre possiamo avere le difficoltà varie, se facciamo bene possiamo fare male ad avversario. Dopo la Juve tutti i giocatori mi sembrano che hanno smaltito bene, che hanno recuperato, non abbiamo avuto problemi con nuovi infortuni. Altro giorno quelli che sono entrati veramente hanno dato un slancio ulteriore, anche Viera, mi è piaciuto molto il mezzo. E questa è una cosa molto positiva, che adesso per prima volta possiamo cambiare, interpreti un po', sono tre partite in una settimana. Oggi abbiamo fatto l'anamento, domani faremo un altro, poi faremo le valutazioni e sceglieremo penso quelli migliori. Abbiamo fatto tanti punti, va bene, finché non ti salvi non bisogna mai rilassarsi, ma non bisogna rilassarsi a prescindere, bisogna andare avanti. In questo momento abbiamo una buona classifica e siamo molto concentrati sulle partite, non sulle altre cose. Cercare di migliorare il prodotto, cose che non vanno bene o mantenere quelle che vanno bene. Penso che partita di andata, me la ricordo, che comunque noi in quegli momenti avevamo tante problematiche, abbiamo sofferto, però mi ricordo anche che in fase di gioco, di attacco abbiamo fatto dei bei gol. Mi aspetto una partita molto difficile. Io in questo momento sono molto concentrato su quello che stiamo facendo. Io penso che veramente in un anno e mezzo abbiamo fatto cose che raramente si sono viste a livello... ci siamo partiti da molto basso come livello proprio di calcio. Siamo riusciti comunque tutti insieme a crescere molto come livello societario, come giocatori, come modo di allenarsi, come staff, come tutto a livello professionale. Adesso, a prescindere, è completamente diverso di prima. C'è un giocatore che arriva adesso, che arrivava un anno e mezzo fa, è completamente diverso. Adesso arriva in una situazione ideale per lavorare, prima non era così. Questo è bello, che riusciamo a lavorare così. Poi tu ti sei incasinato con la domanda e io con la risposta. Sturaro mi sembrava che ha fatto 55-60, che andava forte, che ha cominciato a calare in quel momento. Questo non lo sappiamo, neanche Viera e Ceccherini, non sai mai, esattamente. Però hanno recuperato, stanno bene, si allenano, non pattiscono niente.